Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una nuova perturbazione atlantica ha raggiunto l'Europa centrale e il nord Italia. Con molta difficoltà riuscirà a sfondare nel Mediterraneo grazie ad una blanda protezione anticiclonica. Ciò permetterà ancora stabilità su tutto il sud ma in un contesto più variabile. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 2 maggio. Al mattino avremo cieli soleggiati su gran parte del territorio con poche nubi innocue. Durante il pomeriggio a partire dai settori occidentali giuggeranno nubi più compatte che copriranno i cieli della Lucania e della Puglia centro-settentrionale. Probabili precipitazioni di deboli intensità sul basso potentino. In serata ancora copertura nuvolosa estesa con qualche apertura solo sul Salento. Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento, venti deboli dai quadranti occidentali e mari previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno oggi ringraziamo Alfonso Zuccalà per questo incantevole tramonto ricco di sfumature sul bellissimo mare di Gallipoli. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.